è arrivato il momento di salutare parte della mia storia e lo so sono momenti tristi e lo so e si e capisco e anche questo e lo so questo in cashmere capisco e anche questa goodbye come che si gira goodbye merci non è che c'è un centro in tasca no ciao mia cara e anche a te e questa questa merita un saluto particolare quanti anni mi ha accompagnato nei giochi di magia la potrei forse ancora lavare una volta e tenere dai dai va bene dai la tengo giacca della boss goodbye eh lo so è stato bello anche con te altra giacca della boss bella ma via finito completo non della boss qualcosa in tasca qua non c'è niente qua nemmeno qui ne pure qui nemmeno qui niente qui niente va bene qui niente e qui ne pure via la giacchettina azzurra questa 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 la tengo ancora dai e questi qua via bene questa la tengo ancora non so per cosa magari la regalo la regalo via la elimino non è male questa qua via due ventasconi via ciao ho altro sì queste scarpe via 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 tengo giusto questa ancora che ho un pantalone che magari io lo metto insieme questa ancora la lavo una volta ma è finita via 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 la tengo la tengo ma è finita via 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 la tengo. Fine. Ciao chiudere la porta e scoprire di non avere le chiavi e magari di averle perse là dentro mamma che paura è Highland che belle siamo pronti per la partenza lascio lo studio ciao Richard anzi au revoir lascio questa magnifica doccia ah che bella questa fantastica lavatrice questo fantastico termosifone riscaldamento e ciao siamo pronti per la partenza queste sono le ultime cose lascio anche la sala di shining mai venuto una volta e non ho mai visto nessuno residence che verni au revoir 810 chilometri fino in italia ho comprato due girelle qui al Super U qui siamo pronti come ben si può vedere il mio amico letto no qua tutto pronto no tutto nice and beautiful e qui che c'è la tragedia hai capito? Minimalista parto con più roba di quella che avevo prima cioè ho già liberato prima qua ci avevo tutte le maglie e giacche adesso ci sono le scarpe e meno male il resto sono vino roba da mangiare capito? però c'è tantissima roba tantissima si è vero dietro qua ho anche dell'acqua e delle bottiglie di vino no quindi sono quelle che mi fanno più volume in ogni caso si ho tanta roba però l'effetto minimalista funziona capito? hai meno roba però se devi mangiare ne hai musichetta zen che adesso la cambiamo molto bella però e voilà siamo pronti? dove sono le mie cose? ah qua le mie girelline qua mi sono preparato il tè bene nice and hot e ragazzi siamo pronti 13 ore ciao 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 Grazie per la visione